Domenica 21 maggio 2017, ben ritrovati. La buona domenica ai telespettatori di Nettuno TV, canale 99 del Digitale Terrestre e buona domenica agli ascoltatori di Radio Nettuno già sintonizzati sui 97 MHz per il bacino di Bologna e provincia. C'è sempre lo streaming a disposizione www.nettunotv.tv La nostra pagina si apre con la cronaca, offre aiuto a una ragazza che sta male ma è solo un pretesto per rapinarle. È accaduto la notte scorsa verso le 2 e mezza all'angolo tra via Carracci e di Vincenzo a Bologna dove due amiche, una di 29 e una di 24 anni, stavano passeggiando in zona quando la più giovane si è sentita male. Accusava dolori di stomaco, si è seduta su alcuni gradini per riprendersi. A quel punto, secondo la testimonianza, è comparso un gambiano di 27 anni che si scoprirà poi risultare irregolare dopo che gli è stata revocata la misura d'accoglienza emessa a Parma. L'uomo si mostra subito molto disponibile e preoccupato ma dopo qualche minuto l'amica si accorge che dalla sua borsa manca il portafoglio e dalla borsa dell'amica manca il cellulare. A quel punto nasce una cesalite con l'uomo che cerca di guadagnarsi la fuga spingendo e spintonando le ragazze all'arrivo degli agenti allertati da un passante che si era accorto delle grida. Le ragazze hanno descritto per filo e per segno l'uomo rintracciato poi in via Matteotti e arrestato per rapina. Le donne sono state portate in ospedale per le cure del caso. Rimaniamo in cronaca ancora una vigilessa della Polizia Municipale di Bologna in forza al reparto di Polizia Commerciale finiti in ospedale per le ferite riportate nel corso di un controllo a venditori abusivi in via Indipendenza all'angolo con via San Giuseppe. È accaduto nel pomeriggio di ieri quando operatori appunto del reparto di Polizia Commerciale hanno fermato un cittadino senegalese venditore abusivo di merce contraffatta. Durante il controllo l'uomo si è ribellato e nel tentativo di recuperare la merce già in possesso degli agenti ha aggredito e spinto a terra la vigilessa. L'uomo è stato arrestato per violenza, resistenza pubblico ufficiale e rapina e denunciato per vendita di merce contraffatta. La vigilessa ha riportato una prognosi di sei giorni. Cambiamo decisamente argomento. Sono iniziate ieri pomeriggio le solenni celebrazioni in onore della Madonna di San Luga con la discesa della venerata immagine della Beata Vergine del Santuario alla Cattedrale di San Pietro dove rimarrà naturalmente per una settimana prima di essere nuovamente accompagnata al Santuario sul Colle della Guardia. Dopo la diretta di ieri di Netuno TV il nostro direttore Francesco Spada ha raccolto proprio il pensiero dell'Arcivescovo di Bologna a sua eccellenza. Monsignor Matteo Zuppi. Madonna di San Luga è arrivata in città, è un momento bello, importante di festa per la chiesa ma per tutti i bolognesi. Molto, un momento di grande gioia e anche di ritrovarsi, ritrovarsi insieme come credo succede dappertutto. Quando bisogna andare da mamma o quando mamma viene, beh ci si ritrova tutti e ci si ritrova volentieri. Succede al contrario, quando non c'è è molto più facile trovarsi, riunirsi, mettere assieme i pezzi. Quando ci sta mamma è molto quasi istintivo immediato ritrovarsi e mi sembra che è questo istinto profondo che anche quest'anno, per me la seconda accoglienza della Madonna di San Luca, si vedeva e si vedeva soprattutto nella gioia, nella commozione di tantissime persone che come deve essere sentono questa maternità di Maria e della chiesa di cui tutti noi abbiamo bisogno. E vi ricordo che oggi pomeriggio alle 14.45 dopo il prepartita da Milano per Milan-Bologna, Nettuno TV sul canale 99 del Digitale Terrestre e anche in streaming trasmetterà la Santa Messa organizzata dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Sanitaria, dall'Unità Alsi, dal Centro Volontari della Sofferenza e preseduta dall'Arcivescovo di Bologna. Torniamo ora alla cronaca di ritorno da una gita scolastica con 55 bambini sul pullman che stava guidando e risultato ubriaco con un tasso alcolemico di un grammo litro. È una delle irregolarità scoperte dalla polstrada di Bologna che ha incrementato le verifiche sui bus per l'accompagnamento degli studenti nelle uscite didattiche. L'autista ubriaco si tratta di un italiano che lavora per un autonoleggio del bolognese, è stato pizzicato qualche giorno fa a Imola dove stava riaccompagnando la scolaresca di ritorno da Rimini. Alla fine poi è intervenuto naturalmente un altro conducente per riportare a casa i bambini dopo il controllo che vi abbiamo appena descritto. Andiamo a parlare della cooperazione bolognese che punta sui giovani, lo fa con millennials.coop, primo progetto unitario dell'Alleanza delle Cooperative di Bologna e Imola, piattaforma digitale di lavoro che darà vita alla prima community per giovani interessati allo startup cooperativo e alle collaborazioni con imprese cooperative. Ne abbiamo parlato con Rita Ghedini, presidente di Lega Copp Bologna. Questa è la prosecuzione di un lavoro che facciamo da dieci anni con le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori per trasmettere alle nuove generazioni la cultura cooperativa e sollecitare progetti d'impresa attraverso lo strumento cooperativo. In questa edizione aggiungiamo un progetto che sarà operativo dal prossimo anno scolastico e cioè la parte rivolta agli studenti universitari o ai ragazzi che pur non frequentando l'università abbiano finito il percorso superiore. Avviamo con oggi, inauguriamo questa attività che ha come strumento tecnologico di supporto una piattaforma informatica in cui raccogliamo da un lato contributi scientifici sulla evoluzione dell'impresa, sui nuovi modelli, sui contenuti, sui prodotti, dall'altro i contributi degli studenti, dei ragazzi, dei ventenni che abbiano idee rispetto all'evoluzione dei propri percorsi di studio, idee di impresa che possano utilizzare lo strumento cooperativo per tradursi in pratica. Alla realizzazione della piattaforma parteciperanno anche le nostre associate, le imprese cooperative associate in alleanza delle cooperative italiane, sia per portare propri contributi, proprie idee relative a prodotti, servizi, bisogni dell'impresa, sia per attingere contributi, conoscere i ragazzi, gli studenti, i laureati e le loro competenze e matchando appunto anche in questo caso bisogni e risposte, rispondere ai bisogni di crescita delle imprese cooperative che già operano oppure dar vita a nuove imprenditorialità cooperative e quindi creare lavoro. Andiamo a parlare adesso della settimana della Bici che si è aperta proprio questa mattina qui a Bologna. Gli enti coinvolti sono UISP, ciclista urbano, le istituzioni naturalmente, la scuola e il centro San Ruffillo. Andiamo ad apprendere maggiori particolari da Donatella Draghetti che è responsabile ai contatti turismo attivo della UISP intervistata dalla nostra Eleonora Monari. Un percorso diciamo di assemblamento di tante iniziative che hanno già la loro dignità e anche la loro storia. Andiamo dalla Gran Fondo che è un'iniziativa che ha tanti anni, non competitiva, ha già 1800 iscritti, quindi è consolidata nel tempo. Abbiamo messo dentro una pedalata adatta a tutti proprio perché vogliamo che tutte le famiglie, i nonni, tutti assieme vadano in bici. Un percorso educativo nelle scuole dove assieme alla Polizia Municipale e alle insegnanti facciamo un avviamento alle regole della sicurezza e anche all'equilibrio, cioè gli facciamo andare in bici materialmente perché bisogna poi anche passare al mezzo e poi dopo chiudiamo con il botto che è la Sunrise Bike, quarta edizione con mille persone iscritte. È una situazione particolarissima vedere la città, l'alba, questo fiume di persone che pedalano e alle sei e mezza è tutto finito. Abbiamo costruito un atteggiamento diverso, vorremmo cominciare a parlare di settimana della bici, di trasporto urbano diverso, urbano ed extraurbano perché è città metropolitana, Valle dell'Idice e soprattutto recuperare i bambini perché se non ripartiamo dai ragazzini non cambiamo la mentalità. Alla presentazione c'era anche l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Raffaele Donini che ha sottolineato gli aspetti particolari di questa iniziativa. Vediamo. Sono importanti queste serie di iniziative non solo per la città di Bologna ma più in generale per la promozione di politiche di mobilità ciclistica e sostenibile. La Regione Emilia-Romagna proprio in queste settimane sta approvando una legge, la prima legge sulla mobilità ciclistica, tra l'altro una legge finanziata per 10 milioni di euro ed è stata approvata in Commissione senza alcun voto contrario quindi vuol dire che risente di una condivisione molto ampia di tutte le forze politiche. Noi pensiamo che la promozione di una mobilità sostenibile e ciclabile non sia soltanto una modalità di trasporto a volte anche molto competitiva visto che i trasporti avvengono anche per chilometri ridotti soprattutto nelle città ma sia un corretto stile di vita. Quindi bene queste iniziative che non solo sviluppano delle, diciamo così, delle reunion di ciclisti ma anche pedagogia, educazione soprattutto rivolta alle scuole. Noi siamo interessati da due ciclovie europee, una che coordiniamo insieme alla città metropolitana e l'altra, diciamo, assieme alla Regione Lombardia, vento e sole sono le ciclovie che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, nei prossimi anni, come progettazione dei prossimi mesi, come realizzazione dei prossimi anni e collocano la nostra Regione al centro di importanti itinerari di sviluppo turistico che ovviamente di cui beneficerà anche Bologna. Andiamo a parlare ora della Fondazione Golinelli che ha fatto davvero tanto per la città di Bologna, ha un praticamente bilancio dagli anni 90 ai giorni nostri con riferimento anche al prossimo ampliamento, ce l'ha fatto il direttore Antonio Danieli. La Fondazione Golinelli sta investendo molto, l'Opificio Golinelli è una delle ultime e più importanti realizzazioni che però pone una piattaforma per il futuro. È un centro culturale il cui investimento assomma 12 milioni di euro per realizzarlo, è un centro per la collettività, per i giovani, soprattutto con grande operazione, un lavoro di investimento sull'educazione che guarda al futuro. Ogni anno mediamente 3 milioni di euro è il budget della Fondazione destinato alle attività educative, formative e culturali con un orizzonte che guarda da oggi fino al 2065. Infatti il programma di sviluppo si chiama Opus 2065 e intende far sì che la Fondazione continui a sviluppare nell'ambito educativo ma sempre di più anche in ricerca e nuove realtà imprenditoriali. Una nuova grande realizzazione ci attende e sarà inaugurato in autunno il centro Alte Scienze Golinelli che si affiancherà all'Opificio Golinelli e sarà un luogo di sperimentazione, di ricerca, di immaginazione, di contaminazione tra le arte e le scienze per immaginare il futuro che avanza e aiutare così le nuove generazioni a incanalarsi nella giusta strada per lo sviluppo futuro. Parliamo dell'Opificio che è la realtà forse più significativa, più identificativa della Fondazione. Quante presenze regista? L'abbiamo inaugurato nel 3 ottobre del 2015, ad oggi sono state 160 mila le presenze. Poi la Fondazione Golinelli nasce 30 anni fa e solamente dall'anno 2000 ad oggi abbiamo superato immediatamente un milione di presenze. Si conclude proprio oggi la tre giorni di Confesercenti dedicata alla Borsa Nazionale del Turismo e delle 100 città d'arte. 70 i tour operator stranieri, 400 i sailors italiani, il 30% dei quali, Emiliano Romagnoli, per promuovere un turismo che nella nostra regione è, per fortuna, aggiungiamo, fortemente in crescita. A farci il punto è stato il direttore di Confesercenti, Emilia Romagna, Stefano Bollettinari. La Borsa del Turismo nasce soprattutto perché ha una caratteristica, una missione importante da sviluppare che è quello di promuovere e commercializzare soprattutto le piccole città d'arte. I luoghi meno conosciuti in Italia o quelli che erano forse qualche anno fa meno conosciuti ma che invece adesso rappresentano un asset importante per quanto riguarda il turismo italiano anche dal punto di vista della domanda estera. Quindi quest'anno per esempio è stato decretato dal Ministero del Turismo come anno dei borghi. Piccole località però molto attrattive, località in cui vivere un'esperienza turistica importante, sempre più per esempio il turismo estero ci chiede queste località. Emilia Romagna è diciamo uno scrigno molto importante per quanto riguarda queste destinazioni turistiche, queste località che hanno avuto uno sviluppo in questo senso molto importante. Quali sono le città dell'Emilia Romagna che sono maggiormente in crescita? Ma direi un po' tutte le città sono in crescita in questo ultimo anno, abbiamo avuto una media regionale veramente straordinaria per un anno solo tra 2015 e 2016 siamo al più 13% ma direi che senz'altro Bologna in questi ultimi anni è la città che ci ha dato più soddisfazioni dal punto di vista dello sviluppo dei flussi turistici anche e soprattutto dal punto di vista dei flussi esteri anche se quest'anno c'è stato un recupero della domanda italiana. Ma tanto per fare un esempio la quota di turismo estero a Bologna è arrivata ormai a circa il 50% quindi un risultato straordinario, eccezionale. In settimana si sono tenuti festeggiamenti per la fine dei lavori di ristrutturazione del centro di lavoro protetto promosso da Opim Onlus, l'opera dell'Immacolata. Ascom ha contribuito proprio alla ristrutturazione dell'Opim. Ai nostri microfoni Giancarlo Tonelli direttore Ascom e poi sentiremo Thomas Giardini presidente dell'associazione panificatori di Bologna e provincia. Ascom ha condiviso sin dall'inizio questa bellissima iniziativa della Opim, tesa a fare impresa sociale in mezzo a persone e famiglie che ne hanno una necessità molto profonda. Quindi abbiamo condiviso con un contributo diretto che l'associazione ha dato a questa iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione ma anche mettendo in contatto tante nostre imprese associate con la possibilità di fornire lavoro che è la cosa più importante direttamente alla Opim nello svolgimento quotidiano della sua attività. Per cui un sostegno concreto che è passato attraverso l'impegno di tanti imprenditori bolognesi. Quindi è un sodalizio che dura da tempo, non è nato solo adesso? È un sodalizio che dura da alcuni anni con tutta la determinazione che ci può essere pur in un momento di crisi però a continuare a stare vicini a coloro che fanno un'opera altamente meritevole. Il contributo dei panificatori? Sì, l'anno scorso in Piazza Minghetti abbiamo fatto una settimana per aiutare Opim, un bel risultato, quasi 10.000 euro donati, a noi è stata intitolata la sala mensa, siamo contenti perché è un ambiente a cui noi c'era sconosciuto, l'ho imparato a conoscerlo venendo anche a pranzo con loro, mi hanno una stretta al cuore e ci siamo messi in moto per aiutarli e ci siamo riusciti. È nato nei locali dell'Istituto Veritatis Splendor l'osservatorio su affettività e identità di genere promosso dalla Fondazione Ipser. Abbiamo chiesto a Monsignor Fiorenzo Facchini, presidente della Fondazione Ipser, da che esigenze si è costituito. L'intervista è curata da Elisa Orlandi. All'interesse che è venuto assumendo in questi ultimi tempi il problema educativo dell'affettività, della sessualità, lo sviluppo dell'ideologia del gender, per cui si è avvertito che sia molto importante offrire agli educatori, a quelli che si occupano dell'educazione in generale, delle scuole in particolare, anche delle informazioni su quello che si va svolgendo e va organizzando nella società civile. Apriamo ora la nostra pagina sportiva andando a parlare di calcio, naturalmente grande attesa per questa penultima giornata di campionato, la 37esima. State già vedendo le immagini che ci arrivano ovviamente dagli spogliatoi del Bologna. Un Bologna che sarà impegnato in quel di Milano. Milan che ha bisogno di punti per l'Europa. Bologna che non vuole certo sfigurare in un palcoscenico del genere. Noi naturalmente nel pomeriggio vi testimonieremo il tutto grazie a Francesca Bolognini, la radio cronaca ufficiale, ve la ricordo su Radio Nettuno ovviamente. Qualche minuto prima delle 15 saremmo collegati, ma ancora prima alle 14 si apre il pre-partita da San Siro con un collegamento audio-video che vi proporremo anche su Nettuno TV. Come vedete il pubblico sugli spalti è ancora quello che è, ma manca molto per arrivare al fischio d'inizio delle 15. Vi dicevo di Donadoni, come d'abitudine ieri ha parlato alla vigilia. Andiamo a riprendere uno stralcio delle sue parole. La partita d'andata è una partita che fa veramente una storia a sé, perché è una partita che abbiamo perso, dove sicuramente non meritavamo di perdere, ma che non siamo stati così bravi e intelligenti da vincere. Però al di là di questo che il Milano abbia delle motivazioni Pacifico siamo sempre un po' al solito discorso. Non dobbiamo andare a ricercare delle motivazioni nelle motivazioni degli altri. Scusate il gioco di parole, ma il senso è questo. Le motivazioni dobbiamo trovarcele noi per quello che è la nostra gara, per quello che è il nostro cammino, per quello che deve essere il nostro campionato. Quindi è l'occasione, la penultima occasione che abbiamo, di andare in un grande stadio contro una grande squadra e cercare di far vedere quello che sappiamo e possiamo fare. Questo deve essere il nostro obiettivo, deve essere il nostro target per domani, che troveremo di fronte a una squadra motivata perché ha il desiderio e la volontà di mantenere il sesto posto in classifica. Pacifico, ma è chiaro che noi se non andiamo lì con grande convinzione, grande determinazione, grande capacità di sapere che ci sarà da soffrire e quindi battere in quei momenti le difficoltà, allora alla fine torneremo a casa con le orecchie basse, come ho detto i ragazzi, siccome di chance non ne rimangono molte, bisogna saperle cogliere e poi il risultato sarà figlio a volte anche di situazioni, di cose differenti, diverse, ma la prestazione deve essere quella giusta, l'impatto che si deve dare sulla gara deve essere quello giusto e questo deve essere lo spirito che ci motiva domani e dobbiamo andare così. Quelli che scenderanno in campo dovranno avere questo tipo di gusto, questo tipo di approccio, questo tipo di volontà. L'argomento sportivo ora è relativo al basket, dopo la sconfitta della Fortitudo partita ieri sera al Paladozza da Treviso, 79-81 il finale, si pensa ovviamente già a gara 4 di domani sera. La prelazione a Bonati, fa sapere la Fortitudo, proseguirà nell'intera giornata di oggi fino alle 19.30 presso il Fortitudo Point situato all'interno del Paladozza. Da domattina alle 9 il via poi alla fase libera di vendita e nel pomeriggio le eventuali rimanenze saranno messe in vendita presso le biglietterie di via Graziano. A completare il basket il riferimento è alla Virtus che questa sera sarà in campo alle 19 al Palamaggetti per gara 4 contro Roseto. Ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento sportivo delle 14, naturalmente in collegamento da Milano dove saremo con Francesca Bolognini e anche con Giacomo Bianchi, questo oggi. Grazie per la vostra attenzione, grazie a Nicola Salerno per la parte tecnica, a voi un buon proseguimento di domenica.